Nell'anticipo di Coppa Italia di ieri sera un volitivo cesena maglia bianca è riuscita a chiudere a rete inviolate l'incontro sul terreno del Bologna. La squadra allenata da Bonizzoni ha confermato dopo le belle prove negli amichevoli con il Cagliari e la Fiorentina di aver raggiunto una buona preparazione. Il Bologna per contro è apparso slegato e ha risentito molto dell'assenza di due uomini del valore di Bulgarelli e Gregori. La gara è stata inoltre ostacolata da una fitta pioggia che ha reso il campo molto scivoloso. Il Bologna pur giocando blandamente ha avuto una bella occasione al nono quando Marinelli è riuscita a salvare sulla linea bianca. Scala, il miglior bolognese, ha cercato di impostare varie azioni. Qui su un suo servizio a Savoldi esce prontamente Annibale ma non ha trovato molto aiuto nei compagni. Lo stesso Scala ha impostato al 37esimo la miglior azione della serata ma il colpo di testa di Fedeli sul servizio di Perani ha sorvolato di poco la traversa. Nella ripresa il Cesena si presenta minaccioso in area avversaria e un gran tiro di Righi impegna Adani. Il Bologna ha un'ottima occasione al ventesimo ma il colpo di testa di Vastola è rinviato fortunosamente da un difensore e Annibale riesce quindi ad impadronirsi della palla. Poco dopo il Bologna potrebbe ancora passare. Rizzo imposta all'azione e la palla perviene infine a Savoldi che indirizza a rete. Perani non riesce ad intervenire e il portiere del Cesena può parare con tutta tranquillità. Allo scadere del tempo è il Cesena ad avere la possibilità di passare ma Adani ferma la conclusione di Enzo e la partita termina così a rete inviolate. Vistoso bottino dell'Inter che a comma battuto per 4-0 Ilariani. Gli uomini di Eriberto Herrera hanno palesato dei confortanti progressi rispetto alle precedenti esibizioni ma non si può certo dire che tutti i problemi siano svaninti per il tecnico nero-azzurro. Abbastanza organico il centrocampo tenuto da Mazzola, dal giovane Fabian, da Bertini e Frustalupi. Herrera alla ricerca di una fisionomia di gioco ben precisa ha lasciato a riposo corso. Perfezionate le condizioni atletiche il delicato settore dovrebbe funzionare bene. L'Inter è passata in vantaggio all'unicesimo. Splendido doppio scambio tra l'avanzante Burnice, Pelizzaro e Belgold e l'ala destra apparsa in netto progresso. Il Como ha impegnato relativamente la retroguardia interista nella quale Landini, schierato come libero, non sempre ha convinto. Ha posto invece i terzini e lo stopper Giubertoni. Scarsissimo il lavoro per Vieri, le cui condizioni di forma comunque non hanno bisogno di collaudo. Nella ripresa il Como, in evidente difetto di preparazione rispetto ai milanesi, ha notevolmente rallentato la propria azione e l'Inter è diventata padrona del campo. Già al terzo minuto Mazzola, imbeccato da Burnice, ha segnato la seconda rete. Pellizzaro, guizzante e attivo, in collaborazione con Frustalupi, ha preparato a buon insegna la palla del terzo gol e il centravanti non ha fallito. Mazzola, godendo di una maggiore libertà che nel primo tempo, si è impegnato in proficue ed applaudite sgroppate, incuneandosi ripetutamente nella difesa del Como, al quale va dato atto di non aver mai fatto ricorso a tattiche ostruzionistiche. Di rilievo nell'Inter anche la prova di buon insegna che si è smarcato molto bene e che ha più volte cercato il gol. L'azione della quarta ed ultima rete dei Nerazzurri è partita ancora da un'iniziativa di Pellizzaro perfezionata da Frustalupi dopo un tocco di buon insegna. Un Inter quindi in progresso, ma che va attesa al vaglio di più impegnativi confronti. Uno a uno al Bentegodi di Verona, tra i locali e la Juventus, le uniche due formazioni di Serie A impegnate in confronto diretto nel primo turno di Coppa Italia. Un risultato che a prima vista potrebbe accontentare entrambe le contendenti, ma che lascia un po' da mero in bocca, specie i torinesi che ancora assenti regista Capello, non hanno saputo trovare l'uomo a guida per organizzare il gioco. Il Verona, grazie soprattutto all'abbondante e illuminato lavoro di Moschino, ha dimostrato idee più chiare e le sue puntate offensive sono state spesso contenute a fatica dalla difesa juventina, che ha dovuto ricorrere ad interventi piuttosto duri per arginare gli avversari. Questi, pur rinunciando al gioco lungo le fasce laterali e costringendo al centro Clerici e Mujesan, sono giunti sovente nell'area bianconera. Il gol veronese tuttavia era la conseguenza di un ennesimo fallo a Juventino. Marchetti falciava Ferrari. La punizione era battuta da Moschino, il quale pescava a Mascetti libero, che batteva a rasoterra Tancredi. Rivediamo il gol da un'altra angolazione. Nella Juventus il solo Haller è parso capace di esprimere un consistente volume di gioco, anche se le sue conclusioni sono state senza esito. Il gol juventino è stato tenuto nel secondo tempo su autorete di Moschino, che ha deviato un tiro di Marchetti spiazzando Pizzaballa. Per il resto l'unica occasione bianconera si è avuta con Anastasi, il cui tiro è stato parato dal portiere gialloblu.